e poi... e poi volevo mandarti anche il video ho fatto una bomba nuova e ne ho ammazzati 6 in un colpo solo tutti in squadra c'erano quegli imbecilli è perchè erano lì che prenderono le munizioni finché sono arrivato io a breccia dal crepuscolo io ho spolgorato tutti e ne erano tutti lì no, una mappa nuova non ho ancora giocata una ottimo ho un gioco da martedì non mi ricordo se il fucile dell'ignoto è comato sì una nuova carta Grimorio testiamo sta merda di mappa guarda come sale velocemente in confronto alla loro perchè la nostra andava fluida, la loro andava a scatti mi posso teletrasportare? sì dio santo questa sarà già un casino lo prevedo adesso voglio proprio vedere cosa succede vum dove sono? non lo so gli avversari che mi scompaiono perchè si teletrasportano io lo inseguo mi aspettavo stronzo oddio no no come si fa ma donna questo fucile è ignota ha già rotto i tre quarti cos'è questo? yuhuuu non muore com'è bello non conoscere le mappe oh si non c'è un cazzo a conoscerebbe poco oh ci capisco il cazzo no finalmente ho ucciso uno non posso coltellarti perchè sennò lancerai il coltellino a lancio mi compreso Cici hai conquistato la zona A mi mi chiesa è qui a destra che sta laggando ah ok l'avevo visto bene che sta laggando stronzo te ne arriva uno da destra doppia uccisione minchia sta calmo grazie comunque hai bisogno di confluenza fare le stesse identiche danni non è cambiato di una virgola yuhuuu yuhuuu bello no ma qui farla super è fantastico oh me l'ha fatta anche lui però ma ma che numero ma che numero oh cio dietro non ho notato che aveva fatto una super anche lui le munizioni vieni vieni non le vuoi arrivo 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 c'è un nemico di adesso pigiale 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 vaffanculo te con quel fucile ignota che mi ha già rotto i tre quarti veramente cioè adesso dovrò stare attento anche da sopra se mi arriva uno con con la super yuhuuu posso volare? ah si che posso volare però sta a romane vaffanculo ma questo mi porta direttamente si vabbè sono dimenticato che non ho cambiato la super mio come rubare le kill yuhuuu porca cioè mi sono fatto male sa che non devi più saltare facendo quello cosa? ma se l'ho preso in faccia ho usato una super inutile io non so perché sto usando questa classe ok vabbè stavo stavo barcollando in due direzioni diverse ah che palle massacratore dai che ne ho tre davanti uccidene uno bomba no ok più o meno ho capito come sono questi cazzo di teletrasport eh vabbè grazie ma munizioni verdi io qua non ne posso trovare porco il demonio sai che non l'ho ancora vista neanch'io comunque c'è questo qui con la lama d'arco che è da mezz'ora che l'ha usata per me però non è riuscito a prendermi ma per me cioè me l'ha usata davanti non mi ha preso una volta oh ecco le munizioni verdi dove sono proprio di fianco ecco le munizioni pesante ecco le munizioni pesante piglia 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 e scappa non è morto ma vaffanculo ma posso sparare un missile dall'altro lato? sì che posso magari avessi preso guarda i due che volano super non ce l'ho fatta coprire le dispiace eh ha fatto la super all'istante perché io l'avevo coltellato madonna mitoclasta hanno riaumentato ancora i fucili a fusione vero? sì ma c'è sì sì un po' sì il mitoclasta vicino avrebbe forte non era così vicino lo proverò anch'io prima o poi arrivo io ho un colpo alla testa lo uccido non faccio cazzo mi rubo tutto inizio ad ambientarmi comunque eravamo tutti troppo vicini eh per i miei gusti ce ne ho uno dietro cos'è che ho fatto ora di questo stai usando tu il suo rosso o l'avversario? no l'avversario io vado a usare la super no non ce l'ha nessuno però se la uso qui dovrei arrivare in cino sì non scappare non mi scappi ma ce ne ho uno anche dietro e gliel'ho finita davanti ovviamente buongiorno vabbè è scappato e questo non l'ho ancora visto dove mi te trasporta? non so dove sono ah ho capito cazzo cazzo dietro spero che questa qui non la metteranno mai in osiride guarda che si teletrasporta e io ti inseguo sapevo che mi aspettavi si hanno aumentato leggermente i fucili a fusione leggermente